questo non è un piano questa è una stronzata ma infatti lo siamo ragazzi il piano fa schifo perché stanno passando tutti dal bagno chimico no dal bagno chimico o dagli uffici scusate dio porco te lo dico fra un secondo sì torniamo indietro passate dentro la breccia se proprio però stanno facendo tutti il giro largo e qualcuno in sparapallini cinque personaggi alle colline dovete tornare tutti indietro attenzione al muro della sparapallini c'è già gente porca mignotta no qualcuno controlli da dietro anche ogni tanto comunque sono tutti qua davanti contatti al chimico rosso attenzione contatti qua davanti e occhio al chimico rosso sono tutti a sinistra del chimico rosso e poi ce n'è qualcuno che arriva dalla birreria probabilmente tra un'altro attenzione 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 Grazie a tutti Ok le brecce Due tango down Ok le brecce Due tango down Due tango down accesso Due tango down 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 Due tango down